buongiorno ragazzi anche se sembra ancora notte sono le 6 e 10 di martedì 3 ottobre siamo ormai ufficialmente a quattro days out dell'olimpia amateur di milano e voglio farvi un rapido aggiornamento di quello che è successo in questi giorni allora adesso sto facendo il mio cardio mattutino che non ho fatto praticamente mai quest'anno ma ormai non riesco più a dormire quindi me lo faccio la giornata iniziata già alle 4 stamattina con un primo pasto perché aveva lo stomaco completamente scombussolato fa una fame assurda e ho fatto un primo pasto in cui mi sono fatto 200 di albume 10 di olio e 40 grammi di gallette mi sono messa a letto un altro paio d'ore adesso mi sono alzato ti faccio un'oretta di tappeto dopodiché tornerò a casa e fare un secondo pasto di grassi soprattutto perché sono ancora in scarica di carboidrati e adesso vi spiegherò come la stiamo gestendo ma facciamo un passo alla volta allora siamo partiti venerdì in direzione clusone in ricarica dopo aver fatto un giovedì con ricarica di grassi e scarica a 60 di carboidrati qui due passi da 30 grammi con 25 grammi di grassi a pasto dove oggi quindi sono sei passi ho fatto più o meno 150 grammi di grassi giovedì questo con olio d'oliva burro di mandorle burro di nocciole burro di arachidi ho variato le fonti perché volevo vedere tra queste quelle che mi deve essere meno problemi a livello di gas intestinale di gestione perché con i burri spesso possono dare problemi burro di mandorle quello che gestisco meglio devo dire e quindi è quello che probabilmente utilizzerò e poi massa di cacao ragazzi che qualcosa di obrobrioso sarebbe cioccolato fondente al cento per cento che prende immangiabile quindi dopo questo primo giorno diciamo di ricarica sulle 2000 2005 2006 calorie abituato a stare a mille e se più o meno venerdì la mattina mi sono alzato con un peso di 88 89 venerdì abbiamo optati invece una ricarica di carboidrati sei passi da 100 grammi di carboidrati riso principalmente perché poi sono partito per clusone io girato anche il video che avete visto in questa giornata fondamentalmente sono molto stressante in cui non ho non mi sono allenato però dove comunque il corpo ha accumulato molti liquidi infatti sono arrivato la sera a clusone è stato dal coach a fare posing ero molto stressato avevo parecchia acqua addosso tant'è che poi il sabato mattina mi sono pesato 81 e 3 e qui sono andato nel pallone perché ho detto cacchio c'è invece di scendere questa settimana sono salito ok il coach dice iniziamo a scaricare scarichiamo sabato a 120 sabato leg day con lui inizio già a sentire la stanchezza però bene o male diciamo che mi alleno e oggi uscirà il video quindi vedrete il video di gambe che abbiamo girato è in questo allenamento ho dato veramente il massimo per quello che erano le mie forze la sera siamo andati a mangiare fuori ovviamente non ho mangiato niente e l'indomani mattina il peso è sceso di botto di quasi un chilo e mezzo infatti mi sono svegliato più o meno 79 e 9 79 8 felicissimo ovviamente poi domenica nuova scarica di carboidrati sempre a 120 perché adesso il coach consolidiamo questo peso allenamento fatto il mattino con anche posing di petto e spalle e già qui la stanchezza ragazzi ha iniziato a devastarmi ero veramente provatissimo infatti ho passato tutta la giornata poi praticamente nel letto non ho fatto più o meno nulla e l'indomani mattina cioè ieri mattina mi sveglia un peso di 78 e 8 78 e 7 perfetto a questo punto il coach io dico ora finalmente ricarichiamo e invece no il coach dice scarichiamo ancora mezza giornata dopo di che iniziamo a integrare i grassi tant'è che dopo aver fatto il mattina il terzo e l'ultimo allenamento con lui di dorso e vi dico che non abbiamo fatto neanche posing dobbiamo fare anche la routine abbiamo fatto giusto così perché io letteralmente non mi leggevo in piedi siamo sono ritornato a matera è nel pomeriggio iniziata ricaricare con i grassi quindi nuovamente olio d'oliva burro di mandorle massa di cacao sono tornato a casa di sera comunque stanco sono andato a letto e stamattina mi sono svegliato alle 4 con un peso pieno di 79 allora il peso sicuramente era più basso sarebbe stato tipo 78 e mezzo ovviamente svegliandomi alle 4 il peso era un pochino più alto perché non ho dormito niente però se avessi dormito di più il peso sarebbe stato più basso il coach ha deciso da oggi di passare alla ricarica di carboidrati però prima faremo mezza giornata che partita diciamo stati nelle 4 ancora in scarica di carboidrati con 30 grammi di carbo a pasto e 25 grammi di grassi in modo che proviene arriveremo di nuovo sui 150 grammi di grassi dopodiché stamattina dopo due personal quindi scarica tra formi due personal andrò ad allenarmi a fare un primo allenamento di petto che sarà un allenamento più metabolico diverso da quello che faccio di solito che poi vedrò di registrare e da gioveriggio dovrebbe parte una ricarica di carboidrati ovviamente ricarica di carboidrati che sarà moderata perché non possiamo spingerci oltre per rientrare nella tolleranza di peso probabilmente sarà una ricarica moderata di carboidrati oggi e domani per poi riscendere giovedì alzando i grassi in modo da fare venerdì mattina la pesa rientrare in pesa e poi venerdì ricaricare tutta la giornata ora è inutile dirvi che per questa gara i volumi sono stati sacrificati perché abbiamo potuto fare un compromesso per rientrare nel peso ovviamente a vantaggio del tiraggio che diciamo è estremo a discapito dei volumi tuttavia sebbene ho dovuto sacrificare volumi in questa prima gara dalla prossima in cui potrò salire c'è fra una settimana nella meno 85 sicuramente con una rebound una reverse avrò la possibilità di tirarlo ulteriormente di mettere volumi sicuramente di migliorare tantissimo la condizione questo avviene la mia supposizione è una sua idea perché l'ha sempre fatta e funziona io non l'ho mai potuta fare perché l'anno scorso mi sono trovato nella situazione di dover entrare sempre in questi benetti 80 kg anche se il fisico non era assolutamente quello di oggi e quindi quest'anno scopriremo un po che cosa succede ora sono ovviamente contentissimo della preparazione sono ovviamente stanco morto inutile dirlo perché a questo punto ragazzi energie sono finite è un trascinarsi praticamente anche perché non dormendo capite bene quanto sia difficile io sono andato a dormire sono 8 a luna mi svegliavo di continuo per andare in bagno alle quattro con i crampi allo stomaco sono fatto fatto colazione mi rimetto a dormire un altro po per poi alzarmi adesso comunque è rotto di scatole ho deciso di farvi una passeggiata di veicolare queste ultime energie per poi far entrare i carbo giumeriggio guardate la faccia quanto è scavata spero ovviamente che tutto questo stress almeno sia produttivo porti un risultato vissi tutti i sacrifici che sto facendo tra l'altro ho prenotato sia la gara per milano sia la gara della settimana prossima che andrò a fare poi a a madrid sia la gara che andrà a fare a fine ottobre già prenotata a busso lengo il 29 30 ottobre probabilmente poi forse fare una gara a taranto che una gara organizzata spesso da un da un da un ente che ogni anno organizzano degli eventi ed è molto bella molto ben organizzata essendo comunque vicino a casa un'ora posso fermarla in giornata probabilmente lo andrò a fare il 5 novembre dopodiché ci sarebbe malta il 12 novembre deciderò ovviamente da farsi in base a come saranno andate queste prime gare anche alla motivazione che ragazzi inutile dirlo se faccio schifo è inutile continuare a gareggiare mi fermerò se adesso andare bene magari motivato anche se stanco continuerò in ogni caso quella gara non è sicura perché il coach non so se ci sarà sono comunque difficoltà con li voli e le coincidenze già visto nel caso in cui non andasse a farla probabilmente o andrei a farmi bologna la settimana successiva o direttamente i campionati italiani la diamond cup a inizio dicembre con cui poi si chiuderebbe la stagione detto questo una volta che si concluderà la stagione ci sarà quella che poi sarà per me una fase vera e propria di trasformazione perché quest'anno devo assolutamente completare anzi iniziare una trasformazione vera e propria per arrivare a un fisico e da bodybuilder vero dopo che l'anno scorso ho praticamente sprecato una fase di super compensazione a causa di dc a disturbi del comportamento alimentare che in passato non avevo mai avuto e che invece mi sono manifestati per la prima e ultima volta fortunatamente l'anno scorso già prima della prima gara in cui ho iniziato a sbarellare e a mangiare l'impossibile motivo per cui da metà giugno ai primi di agosto ho messo quasi 20 chili passando da un peso di 79 a un peso di 98 e rovinando un po tutto quello che potrebbe sarebbe potuto essere il guadagno in termine di volumi ecco perché poi io fondamentalmente lì ho dovuto fare dei mantenimenti non ho potuto fare una bella fase di bulk perché ero già tra virgolette grasso e sono arrivato ai 102 kg quest'anno sì dove ho messo dei volumi ma allo stesso tempo dove comunque mi sono sporcato tantissimo ecco perché poi sono andato a perdere 23 kg in questo in questo cut tra l'altro aperto e chiusa parentesi la prima gara della stagione coinciderà esattamente con cinque mesi esatti di dieta che un traguardo devo dire non indifferente con 23 chili persi in questa stagione ovviamente le cose andranno diversamente perché anche devo dire ad aver conosciuto una persona come marco ho completamente cambiato mentalità è motivo per cui finite le gare farò sicuramente una piccola piccola fase di supercompensazione che tra l'altro potrebbe già iniziare prima dell'ultima gara perché sotto e quattro settimane tra inizio novembre e dicembre potrei già pensare di fare un rialzo calorico spingere un po sulle calorie magari sacrificare un minimo il tiraggio comunque estremo a discapito dei volumi però salire sul palco magari 87 88 kg più grosso un po meno tirato ma comunque competitivo ci sarà come questa fase dicevo dire bound in cui andrò a cercare di aumentare di sfruttare la sensibilità insulinica alle stelle un corpo super recettivo ai nutrienti per crescere cercare di mettere volumi dopodiché sicuramente seguiranno un paio di mesi due mesi due mesi e mezzo quindi se parliamo di periodo di natale diciamo gennaio febbraio inizio marzo di riposo in cui dovrò allenarmi al massimo per mantenere tutti i volumi cercare di più volumi possibili e dopodiché poter impostare una fase di bulk con l'obiettivo poi di salire sul palco con 7 8 kg in più l'anno prossimo non lo so non so se nel 2024 o addirittura nelle stive il 2025 la cosa certa ragazzi è che sono consapevole del fatto che quest'anno un fisico competitivo che sicuramente può far bene posso togliermi soddisfazioni ma devo essere anche realista sul fatto che difficilmente potrò mai prendere una pro card o cose del genere perché non ho ancora un peso tale e dei volumi tali da poterlo fare ovviamente la linea non manca la condizione non manca manca il peso mancano i muscoli che devo costruire ho tutte le carte regola per farlo in quest'anno e nel prossimo io mi sono dato due anni di tempo per realizzare questo mio sogno e voglio essere comunque onesto nel dire che bisogna essere realisti ragazzi bisogna essere sinceri leggevo proprio ieri un post giuseppe romano in cui parlava di questo se per tanti anni vi siete preparati e non avete avuto risultati perché continuare a farvi del male fare del male sulla salute fuori nel male delle relazioni con gli altri perché ragazzi non ci dimentichiamo che questo sport se io lo dico se si può chiamare sport ci porta inevitabilmente ad allontanarci dal mondo che circonda ci porta a isolarci a stare da soli a non avere tempo dedicare ad altre persone perché mentalmente e fisicamente non abbiamo energia ecco perché tendiamo purtroppo specialmente l'ultima fase a isolarci è per una persona che è lontana da questo mondo è difficile accettarlo difficile capire che magari noi non siamo bene abbiamo bisogno dei nostri spazi abbiamo bisogno di dei nostri tempi e quindi tendiamo a isolarci perdiamo magari amicizie perdiamo magari relazioni sentimentali e può succedere e allora a un certo punto bisogna anche chiedersi quanto ne vale la pena il gioco vale la candela allora io sono realista io penso di avere tutte le carte in tavola per poter fare bene però mi devo dare dei tempi io alla fine ho iniziato l'anno scorso a gareggiare quindi diciamo questo è il secondo anno io voglio darmi almeno altri due non almeno altri due anni di tempo per aspirare a prendere la pro card se in questi due anni sarò in grado di ottenerla ok però poi le mie valutazioni se provare a gregge da pro o a fermarmi ma se c'è non avvenisse dovrei comunque fare i conti con la realtà dei fatti e ammettere a me stesso che non che non sia in grado ma semplicemente che magari non ho i mezzi adatti per poter arrivare a quel livello accettare il fatto di magari continuare con una carriera anche con qualche garetto oppure semplicemente mantenendomi in forma questo lo continuo sempre a fare lavorare in questo mondo perché ragazzi da tutto ora che chiude il negozio la mia vita sarà incentrata sul bodybuilding sulla crescita personale sul percorsi di coaching online su personal training quindi la mia vita resterà questa assolutamente anche la cultura e quindi anche il mantenere un fisico idoneo perché tuttora che devo lavorare ancora di più con il mio fisico non posso più permettermi di raggiungere condizioni disastrose ma allo stesso tempo devo fare i conti con la realtà e ammettere a me stesso che il momento in cui non sia in grado di ottenere il risultato che vorrei non posso distruggermi la salute non posso distruggermi la vita quindi un tempo limitato perché ragazzi c'è gente che vedo 40 45 50 anni che gareggia da 15 anni ancora che sta lì a prepararsi con la chimica distrutta vita distrutta situazione mentale ma anche salutistica distrutta e l'imperterrita che continua a gareggiare ma per cosa io veramente non riesco a capire allora ci vuole anche un po di sal in zucca arrivato a un certo punto e capire che bisogna darsi sempre obiettivi nella vita darsi dei tempi e accettare qual è poi la realtà dei fatti che se non è il caso bisogna saper fare un passo indietro per poterne fare dopo davanti io adesso è quello che farò sicuramente dopo queste gare sicuramente puoi fermarmi fare un passo indietro far recuperare il corpo per poterne fare dopo i due avanti perché comunque ragazzi adesso il corpo è creato uno stress assurdo dopo mesi di preparazione dove avevo finito 256 giga di memoria ho dovuto liberare spazio dicevo dopo mesi di preparazione comunque il corpo ha raggiunto uno stress assurdo anche perché ho raggiunto un tiraggio ragazzi che non so penso si interna al 45 per cento di body fat che dovrò tra l'altro mantenere per due mesi non è fisiologico per il corpo mantenere questi tiraggi come ho già detto non lo è per un soggetto che allora per un soggetto che non integra sarebbe impossibile ci prende si distruggerebbe la vita un soggetto che integra ovviamente è facilitato nel compito ma comunque a livello fisico anche degli organi interni ci sono tutta una serie di problematiche anche il livello di allenamento deve stare attento perché ovviamente le articolazioni sono meno lubrificate deve stare attenta come si allena ad allenarsi comunque a spingere a mantenere i carichi ma non esagerare perché rischia infortuni seri tutta una serie di cose comunque che non ti permette di allenarti al massimo comunque ti portano a essere letargico soprattutto in una fase come questa che sto attraversando in cui ho dovuto tagliare drasticamente le calorie tutta una serie di cose ragazzi capiente il corpo ne risente motivo per cui a un certo punto bisogna rallentare fermarsi ecco perché ora mi godo questo percorso che sta per iniziare vi dico anche ragazzi ho una gran paura lo ammetto perché quest'anno o non dico stress però comunque molta pressione addosso data comunque dal fatto che tante persone credono in me tante persone anche atleti forti in gamba e non scritto facendomi complimenti per la condizione per il fisico assurdo estremo che ho raggiunto quindi questo da una parte mi inorgoglisce dall'altra parte comunque mi dà ansia perché se non dovessi fare niente sarebbe una grande sconfitta ora marco dice smettila smettila perché non sarà così però finché io non salgo su quel palco finché io non faccio un piazzamento dei risultati capite bene che sono soltanto parole che si porta via il vento io ciò che posso dire che ovviamente darò non il 100 però il mille per mille come ho fatto fino a questo momento per cercare di togliere per me delle soddisfazioni e anche ovviamente per chi mi segue per chi mi supporta per tutta la community che sto creando però ovviamente non so come andrà a finire per se il fatto che anche se dovesse andare male la cosa che mi sono ripromesso e che come stato l'anno scorso un trampolino di lancio per arrivare comunque la condizione di quest'anno questa sarà un punto di partenza per poter costruire in maniera intelligente quest'anno un fisico realmente competitivo per poi gareggiare ma ragazzi però addossalmente anche fra due anni sarà necessario per avere un fisico che sia realmente da pro carne con 10 kg addosso non fa niente non ho bisogno di correre anzi meno gareggio forse meglio è perché comunque il corpo ne risente la vita di tutti i giorni ne risente quest'anno forse un po meno dell'anno scorso però comunque ne risentite tanto e quindi ho bisogno comunque poi di dedicarmi ai miei progetti dicevo di dedicarmi ai miei progetti e alle mie ambizioni future e ovviamente in gara tutto ciò viene meno perché manca il focus manca la voglia di fare manca la concentrazione è l'unico pensiero che sia è che un altro giorno trascorra affinché si possa andare sempre ci si possa avvicinare sempre di più alla competizione finale con questo ragazzi io penso di avervi raccontato un po tutto quello che è stato questo percorso un po quello che sono state le mie paure un po quella che è anche la verità sono preparazione spero ne facciate tesoro perché ragazzi è davvero importante che qualunque scelta vi facciate anche se decidiate di iniziare un percorso competitivo lo facciate con coscienza e soprattutto con intelligenza perché ragazzi purtroppo avete una con la salute non si scherza e chi decide di fare come questo sport che io ripeto non chiama sport fa comunque un patto col diavolo non ce lo prendiamo non ci veniamo in giro dobbiamo essere comunque sinceri e onesti con noi stessi io cerco di farlo comunque con intelligenza avendo comunque a fianco persone che mi venivano bene avendo a fianco comunque un preparatore che ci sia nella mia salute che mi controlla e che non è un macellaio come tanti che ci sono in giro ma comunque resta il fatto che è una sport molto molto pericoloso anzi ripeto non lo sport voglio chiamare stile di vita chiamiamolo come vogliamo perché è una sport ha una prestazione nella prestazione alla fine non ce l'abbiamo noi ci mostriamo sul palco il giudizio è soggettivo non è oggettivo perché non è un sollevamento non è una maratona dove chi vince vince chi solleva di più solleva di più qui i parametri sono soggettivi io posso piacere a un giudice posso non piacere a un altro detto questo ragazzi ormai ci siamo mancano veramente siamo agli sgoccioli io sono felice che i giochi abbiano inizio e voi siete qui con me in questo viaggio ci vediamo